Ciao a tutti, vi dobbiamo dire una cosa veramente importante, in questo momento dobbiamo tutelare la nostra salute, quella dei nostri figli, dei nostri genitori e delle persone a cui vogliamo bene, non vediamo l'ora di tornare a correre, a giocare e a regalare emozioni, ma tutti noi dobbiamo sapere aspettare, in questo momento è fondamentale fare due passi avanti e non un indietro perché vogliamo tornare il prima possibile. Restiamo a casa, stiamo a casa, mi raccomando. Ciao a tutti, vi dobbiamo dire una cosa veramente importante, in questo momento dobbiamo tutelare la nostra salute, quella dei nostri figli, dei nostri genitori e delle persone a cui vogliamo bene, non vediamo l'ora di tornare a correre, a giocare e a regalare emozioni, ma tutti noi dobbiamo sapere aspettare, in questo momento è fondamentale fare due passi avanti e non un indietro perché vogliamo tornare il prima possibile. Restiamo a casa, stiamo a casa, mi raccomando. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.